Radio Energy Web, la scelta intelligente. Su Radio Energy Web c'è alternativa sonora, girano i dischi di Antonio Cosentino DJ. Lo senti? È Radio Energy Web. Tutti i mercoledì dalle 20 alle 21, su Radio Energy Web c'è Energy in Time. Mixa per voi Frankie DJ. DJ Casper, il sabato dalle 19.30 alle 20.30 su Energy Web Station c'è DJ Casper, con i più grandi successi che hanno caratterizzato la musica internazionale. Il sabato sera dalle 19.30 alle 20.30 c'è Radio Energy Web. Il martedì, dalle 20 alle 21, Dipendenza, con DJ Mickey su Energy Web Station. Dipendenza, la musica mixata da DJ Mickey. Il martedì, dalle 20 alle 21, un altro grande appuntamento firmato, Energy Web Station. Radio Energy Web, your, web radio. Goditi la differenza. Radio Energy Web, dà la carica alle tue giornate.